Un'edizione speciale di VCO Notizie e il Tg dei Bambini nella programmazione di Natale di VCO Azzurra TV. Il giorno di Natale, come consuetudine, il nostro telegiornale vi proporrà l'incontro con un vescovo, intervistato dal nostro direttore Maurizio De Paoli, per una riflessione sul significato di questa festa cristiana, capace di parlare anche a chi credente non è. Il nostro direttore ha incontrato Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, a Dal Piano di Ivrea, presso lo storico castello dei Vescovi Conti. L'appuntamento è per il 25 dicembre, alle 19.30, 22.30 e nei classici punti ora dei nostri telegiornali. Stessi orari, ma nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, sarà in onda il Tg dei Bambini, con gli alunni delle scuole elementari Tozzi di Suna ed altri colleghi verbanesi ed ossolani. Racconteremo attività didattiche, iniziative e poi vi mostreremo stralci di diversi concerti di Natale. A proposito di concerti di Natale, domani sera alle 20.30 vi riproporremo la performance di Alberto Fortis a Domodossola.